Salve, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Io sono Daniele e sono venuto qui perché mi piaceva quella sala convegni sua al primo piano. Beh, ha un ottimo gusto, quindi è una sala convegni di circa 250 posti. Questa è la planimetria, vedi? Questa è proprio come è? Questi sono i bagni. Max, ecco il foglio che mi avevi chiesto. Grazie, grazie Benedetta. Quindi questi sono i bagni che praticamente quando arriva la giusta. È proprio bello iniziare una giornata con uno sguardo così. Proprio bello. E anche con un profumo così. Questa è l'agua dell'Amazzonia. Accidenti, bravo, ma come hai fatto a scoprirlo? È l'agua dell'Amazzonia davvero. E sono anche molto sensitivo, lo sa? Sì. Attraverso le sue mani saprei dirgli molto di lei. Davvero? Sì. Che bello, provi. Allora, lei è una persona caparbia, tenace e generosa. Un po' come tutti i leoni, o meglio come tutte le leonesse. Oh mio Dio, è proprio vero. Eh? La sua piata preferita è il diamante. Qualcuno a breve ne farà questo dono puro come i suoi occhi. Oh mio Dio, ma che sei sentito? Ma che bello, ma quanti complimenti fa questo signore? Ma veramente questi complimentini qui te li faccio anch'io, Benedettina. Ma quale signore, ma quale signore? Mi chiami Daniele. Anzi, Daniele e basta. Va bene, Daniele e basta. Ma la rivedrò spesso qui? Ma assolutamente sì, adesso ho una ragione in più. E che ragione? Va bene, allora avremo tempo di prenderci un caffè, e magari mi dirà altre cose di me che non so. Molto volentieri, non vedo l'ora. Va bene, arrivederci Daniele e basta. Arrivederci signorina. Mamma mia che bellezza, incredibile. Mi scusi, dicevamo la sala. La sala? Guardi, mi è arrivata proprio ora ora una telefonata e l'hanno affittata, la volevano in due. Trac! E l'hanno presa in due. Poi mi hanno chiamato e gli altri due mi hanno detto, guardi, la si vuole in quattro. E allora lei la vorrà mica andare a fare delle riunioni in due antibagni? No. Che dirò bene? No. E allora purtroppo mi dispiace per lei, però la sala la non c'è più per lei, caro il mio signor Daniele e basta. Mi sa che per oggi lei l'abbia preso abbastanza né bocciolino. Lei è molto volgare, lo sai? Se ne vada! Oh Dio, è proprio bello iniziare la giornata con... Dai, dai, dai! Ma come è ora?